Il centro di aiuto allo studio è frequentato ogni anno da oltre 1500 studenti italiani e stranieri provenienti da più di 100 istituti di scuola superiore. Qui oltre 300 adulti tra professori in attività e in pensione e studenti universitari lavorano quotidianamente e senza compenso per affiancare gli studenti nella preparazione didattica e condividendo con loro problemi, domande e necessità. Fondata nel 2000 per iniziativa di un gruppo di insegnanti, si ispira all'infezione di Don Giorgio Pontigia, sacerdote milanese scomparso nel 2009 e noto per la sua indomabile creativa passione educativa. Per lui il vero aiuto ai ragazzi parte dal condividere le difficoltà che esprimono proprio a scuola e nello studio. Con i servizi offerti costituisce oggi a tutti gli effetti una preziosa integrazione del sistema di welfare pubblico territoriale, un luogo dove i giovani si sentono accolti, compresi e aiutati a crescere. Ritira il presidente Alberto Bonfanti. Grazie. 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 Grazie.